Ciao a tutti! Oggi un nuovo video outfit. È un outfit per tutti i giorni, primaverile, e siccome mi piaceva, volevo mostrarvelo. Sto per uscire, quindi mi sono preparata, e mi è piaciuto questo abbinamento e ho deciso di fare questo video anche per darvi un'idea di outfit primaverile. Allora, per quanto riguarda il make-up, non è niente di particolare, quindi non sto qui a dirvi come l'ho fatto, perché è un trucco che sto facendo praticamente tutti i giorni, molto neutro. Per quanto riguarda gli accessori, ho messo questi orecchini qui, a forma di margheritina, bianco e oro, che ho comprato l'anno scorso sul sito di Forever 21. Per quanto riguarda il braccialino, ho messo questi due qui, questo bianco di perle, e questo qui, che ormai metto tutti i giorni con le perline tutte colorate. Per quanto riguarda l'orologio, ho messo questo qui di Swatch, che ho comprato da poco, che ha il cinturino bracciale, bello lungo, color bianco, e al collo la catenina in oro, con la scritta Anna, con il mio nome. Questi erano gli accessori. Passiamo all'outfit. Allora, è questo qui, molto semplice per tutti i giorni, infatti sto andando a fare un po' di shopping, come al solito, e quindi mi sono vestita così comoda. Allora, parto sbito con la maglia, questa maglia qui, carinissima, che ho comprato da Telly Whale, ve l'avevo già mostrata in un video haul, che porta le maniche a tre quarti, e io sotto, siccome non fa caldissimo, ho messo una maglia bianca, e trovo che sia carina anche così. E ha questa fantasia, cioè queste righe, queste righe blu e bianche, che mi ricordano un po' lo stile marinaretto, ed è semplicissimo, scollo, rotondo e elastico qui, in fondo. Per quanto riguarda, semplicissimo, per quanto riguarda il jeans, ho messo questo jeans super skinny, molto aderente, sembra quasi un leggings, che ho comprato tempo fa da H&M. Un jeans semplicissimo, quattro tasche. Per quanto riguarda le scarpe, ho messo le mie adoratissime Converse, queste qui, con la zeppa all'interno, che praticamente sto utilizzando tutti i giorni, perché sono comodissime. e quindi questo è l'outfit completo per andare a fare il shopping. Per quanto riguarda il giubbino, metterò questo qui, che è tipo un trench che ho comprato l'anno scorso da Zara. ecco qui, che ha questa lavorazione, non so come si chiama, sulle maniche, e ha il collo insieme a pelle, ed è così, abbastanza abitato. Però io lo lascerò aperto, per lasciare intravedere la maglia. Quindi è abbastanza lungo, e porta delle frange, qui vedete, ai lati, e sul sotto. E poi, per quanto riguarda la borsa, metterò la mia adoratissima, questa qui, Silvia Mich, che ho comprato in saldo, e penso di questa qua, penso di portarla a trabolla, in questo modo, così sono più comoda per fare la mia passeggiatina. E quindi ragazzi, questo era il mio outfit casual, primaverile, per andare a fare un po' di shopping. Spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere tutto nei commentini, noi ci vediamo al prossimo video, e vi mando un bacio. A presto, ciao!